Una domenica storica per lo Stresa che per la prima volta nella sua storia è primo in eccellenza. Merito del decimo, risultato utile consecutivo della ennesima domenica senza subire gol. L'imbattibilità di Barantani dura da 474 minuti, 3 a 0 meritato agli orizzonti United. In pratica la partita si è chiusa a cavallo tra il diciassettesimo e il ventitresimo del primo tempo quando lo Stresa ha trovato prima il vantaggio e poi il raddoppio. La prima occasione diventa subito letale per la squadra di casa dopo un'azione insistita e ne ha fatti. La squadra di Galeazzi trova il gol del vantaggio con un diagonale vincente di Tuveri. Al ventitresimo il raddoppio è cosa fatta, retropassaggio di Modena. Cerruti sbaglia tentando il dribbling su Faraci che è lesto e davvero rapace d'aria. Trova il nono gol in stagione, poi bel gesto da parte del capitano dello Stresa che consola il portiere degli orizzonti per l'errore. Al ventisettesimo ci prova Frascoia, questa volta è attento l'estremo difensore ospite a mettere in calcio d'angolo al quarantacinquesimo. Grande intervento difensivo di Sciacchia che salva su Cirido che stava concludendo a botta sicura. Nel secondo tempo al trentunesimo Barantani di piede salva sul neoentrato Patti, poi al quarantesimo arriva il attrissa dello Stresa a calcio d'angolo di Frascoia. imperioso stacco di Agnesina e palla nel sacco per il definitivo 3-0.